Il 1509 è l'anno in cui Papa Giulio II chiama un giovane, giovanissimo artista Raffaello Sanzio ad affrescare le quattro pareti di una stanza che gli sta molto a cuore. È la stanza della signatura, così si chiama, e tra poco verrà destinata ad essere la sua personale biblioteca, il suo studiolo. Raffaello ovviamente si rende conto che è un incarico straordinario e molto emozionato e il Vasari racconta di lui che va in crisi perché il Papa gli suggerisce prima di cancellare gli affreschi di chi l'ha preceduto. Infatti su quelle quattro pareti aveva già dipinto Piero della Francesca e Raffaello naturalmente è turbato all'idea di cancellare gli affreschi di un così grande maestro che è venuto prima di lui. Su una delle quattro pareti affrescate della stanza della signatura c'è una grandissima epica rappresentazione della filosofia antica. Questo affresco è passato poi alla storia, e così noi lo conosciamo, con il nome di Scuola di Atene. Le sue dimensioni sono molto grandi, 5 metri per 7, e si tratta di un compito veramente arduo perché Raffaello deve mettere in quello spazio tutti i più grandi filosofi del mondo antico. Ovviamente in questo quadro, in questo panorama, Platone la fa da assoluto protagonista, anzi non assoluto co-portagonista insieme ad Aristotele. Ecco Platone. Intanto Platone ha la testa di Leonardo da Vinci, è un favore che in un certo senso Raffaello fa a entrambi perché sono due uomini incredibilmente prestigiosi avvolti da un'aura di sacralità e quindi va bene mettere la testa di uno sul corpo dell'altro. In mano Platone poi ha un dialogo, il Timeo, proprio il Timeo perché il Timeo è l'unico dialogo di Platone che i medievali conoscevano, nel senso che gli altri sarebbero poi stati riscoperti più avanti e quindi la gran parte delle teorie di Platone che erano state studiate e poi masticate nel Medioevo, che avevano prodotto ovviamente il neoplatonismo, provenivano da lì, dal Timeo. Raffaello ha ancora a disposizione una mano, l'altra mano libera, quella di Platone, per fargli fare un gesto che sia veramente memorabile, un gesto che passi alla storia e in effetti questa rappresentazione di Platone è in assoluto la figura più potente, più forte, più iconica che noi possediamo del grandissimo filosofo Platone. Raffaello decide di fargli puntare un dito verso l'alto. Dal punto di vista di Raffaello non si tratta solamente di una scelta concettuale, di un'idea, si tratta anche più banalmente di una scelta armonica e compositiva perché di fianco a Platone c'è Aristotele e Aristotele è in un atteggiamento opposto rispetto a quello di Platone. Intanto anche i colori del suo corpo sono diversi, sono più scuri. E poi tiene in mano la sua opera all'Etica Nicomachea, ma quello che è più importante di nuovo Raffaello gli lo fa fare con l'altra mano. La mano di Aristotele è rivolta con il palmo verso il basso, come a dire che lui è il pensatore della terra che sta con i piedi ben ancorati a terra, il logico, il matematico, lo scienziato, mentre invece Platone guarda il cielo, indica il cielo e sicuramente ha i piedi meno per terra. Tra loro, tra Platone e Aristotele, che sono vicinissimi, c'è semplicemente un punto di fuga, ma la storia del punto di fuga è la storia della scuola di Atene e del grandissimo successo che ha avuto quella fresco lì di Raffaello. A noi in questo momento non interessa. Quello che invece a noi preme moltissimo è guardare quel dito puntato verso l'alto, cioè il gesto che Raffaello si è inventato per rendere Platone il padre del pensiero più limpido che è riuscito a scorgere dentro a tutta la sua opera, cioè guardare in un punto, guardare in alto. È come se quel dito stesse dicendo questo mondo non è il migliore possibile, è meglio quell'altro. Ma quale altro mondo? D'altra parte Platone non è vissuto come noi, entro una cultura cristiana, non aveva nessuna nozione di paradiso, i campi elisi erano tutta un'altra cosa. E dunque qual è quell'altro mondo? Ma soprattutto perché Platone non dovrebbe preferire questo a quell'altro mondo? Cercheremo nel tempo che abbiamo insieme di rispondere a queste due domande e cercheremo di farlo passando attraverso tre momenti della vita di Platone. Per prima cosa la sua infanzia, cioè Platone prima che diventasse Platone, dopo la sua adolescenza, cioè Platone allievo, ovviamente allievo di Socrate e in ultimo Platone vecchio, la vecchiaia di Platone, cioè Platone che finalmente diventa maestro e che scrive il suo grande capolavoro, cioè Repubblica. Partiamo allora dall'infanzia di Platone. Sembra impossibile adesso pensarlo senza la tessa di Leonardo da Vinci, in ogni caso è molto difficile provare a slegare la sua immagine dalla folta barba e dalla fronte spaziosa che gli mettono addosso, che gli attribuiscono tutti gli scultori. Se pensiamo a Platone è quella l'immagine più forte che abbiamo di lui, insieme naturalmente a quella di Raffaello. Però Platone è stato un bambino. Ovviamente, come tutti, Platone è stato un bambino. Ed è stato un bambino molto fortunato, il cui nome non era assolutamente Platone, bensì Aristocle. La madre e il padre di Aristocle erano due aristocratici, provenivano da due delle famiglie più nobili e più antiche di Atene. Per parte di madre lui proveniva direttamente da Solone, Solone che era questo grandissimo e famoso legislatore di Atene. Per parte di padre invece discendeva da Codro. Questo re Codro era un mitico re, il primo re della città di Atene, della zona in cui poi sarebbe sorta la polis appunto di Atene. Dunque Aristocle era un bambino molto fortunato ed era molto fortunato in una società che non era molto dolce con chi era al contrario sfortunato. Nonostante per noi Atene sia oramai la culla della democrazia e si tenda a schiacciare la sua immagine su questa rappresentazione molto stereotipata di come stavano le cose, Atene era innanzitutto una società schiavista che quindi distingueva in maniera molto dura tra chi era libero e chi non lo era. Aristocle era libero e per di più era ricco. In quanto all'aspetto fisico di questo bambino di Platone è molto difficile avere dei dati certi su questo naturalmente. Sono in pochi biografi antichi che ci fanno questo regalo di darci qualcosa dei grandi filosofi, ci si concentra sui pensieri o sulle gesta, sulle azioni, ma invece pochissimo sul corpo che però ha la sua grande importanza. Diogene Laerzio fa invece questo dono a tutti coloro che si interessano alle vicende di Platone di dire due cose fulminanti sul suo conto, proprio sul suo aspetto fisico. La prima cosa riguarda la voce. Diogene Laerzio dice che Platone aveva una voce di cicala, poi sta a noi, sta a voi provare a immaginare com'è una voce di cicala, se acuta, lamentosa, querula, insistente oppure delicata e sottile. Fatto sta che, dice Diogene, aveva una voce di cicala. E poi la seconda caratteristica di Platone invece è che Platone non rideva mai con i denti, persino quando rideva, dice Diogene, teneva la bocca chiusa e questo per quanto era educato e introverso. Questo è un elemento che da una parte ci dà un'immagine di lui diversa da quella del busto, ma dall'altra parte ci apre anche molti orizzonti riguardo al suo carattere, al modo in cui doveva stare al mondo. Il terzo dato che riusciamo a ricavare riguardo al corpo di Platone ci proviene direttamente da questo nome, Platone. Platone in realtà è un mignolo che è stato dato ad Aristocle intorno ai 15 anni dal suo maestro di ginnastica, che aveva notato quanto il ragazzo fosse largo di spalle e Platone significa proprio questo, il largo. Platone come tutti i ragazzi e i giovani, i bambini della sua età, nato aristocratico ad Atene intorno al quinto secolo, aveva un solo destino, quello di scendere in politica. Eppure fin da piccolo aveva dimostrato una forte antipatia nei confronti della politica, fino a dire, a scrivere, anzi in la lettera settima, una delle poche lettere su cui siamo certi che sia proprio stata scritta di suo pugno. Ha scritto una cosa come io non voglio scendere in politica, nemmai vi scenderò, perché è impossibile scendere in politica restando incorrotti. È una frase molto forte, molto dura, che naturalmente ancora oggi ha qualcosa da dirci, ci fa pensare. Chiunque abbia provato a fare anche solo il rappresentante di classe al liceo sa quanto è difficile scendere in politica restando incorrotti. E per incorrotti si intende perfettamente equi nel prendere le decisioni. Se un caro amico ci chiede di far slettare il compito, un altro caro amico o un conoscente di cui ci interessa meno spera invece che il compito rimanga fissato in un certo giorno, ecco di qui nasce un conflitto che secondo Platone è irresolubile e quindi è improbabile che degli uomini, per quanto saggi, riescano a uscirne salvi. Quindi da una parte c'è una motivazione diciamo filosofica e logica per cui è impossibile scendere in politica restando incorrotti, ma poi c'è un'esperienza diretta di Platone che giustifica questa affermazione così forte. L'esperienza diretta riguarda il fatto che da quando Platone è nato, fino ad adesso, quando è appena un ragazzetto, Atene è praticamente sempre stata in guerra. Per Platone la pace è un'età dell'oro che affonda in un passato imprecisato, ma non esiste, nella sua esperienza non esiste. E per di più Atene viene vinta da Sparta nella guerra che l'ha dilaniata per anni e anni, la famosa guerra del Peloponneso. Quando Sparta vince c'è una cosa che cambia nella geografia di Atene. Vengono abbattute le mura, sembra una cosa piccola o insignificante, ma in realtà è un momento molto importante. Pensate quanto può essere forte per un ragazzo, pensate quanto è forte per un ragazzo che vive in una città devastata da una qualsiasi guerra. Vedere il terreno che cambia non perché viene costruito un nuovo grattacielo o un nuovo parco giochi, ma perché qualcosa viene distrutto e mai tornerà come prima. Ovviamente vengono in mente molte immagini più recenti come Dresda o la Siria o moltissime altre rappresentazioni in qualche modo più vicine a noi di che cosa significhi guerra. Fatto sta che nell'esperienza di Platone guerra ha significato la distruzione di Atene e anche la distruzione della sua forma di governo, perché Sparta naturalmente pensa bene di commissariare immediatamente Atene e quindi Atene non sarà mai più la città di prima. Questa volta al governo salgono degli uomini che solo apparentemente sono democratici. In realtà di democratico non hanno nulla, prima dei diranni, poi dei democratici in realtà affratellati con gli spartani che trattano Atene male come una tavola da cui bere tutto il vino e mangiare tutta la carne possibile per lasciarla poi completamente vuota di fronte agli altri cittadini. La sensazione dunque di Platone è questa, è terrificante ed è un'ottima ragione per preferire di non scendere in politica. La prima volta in cui rintracciamo il genio del gesto che Raffaello imprime a Platone è proprio qui, quando ancora la bambina timidamente alza un dito verso il cielo e obietta però preferirei di no, preferirei non scendere in politica, preferirei qualsiasi altro destino ma non questo. Tra l'altro Platone ha conosciuto da vicino alcuni dei politici corrotti che non gli va, siano mischiati a lui. Per esempio suo zio Crizia, una persona che conosce bene perché probabilmente l'ha visto tutti i pranzi e le cene di Natale, è una persona che fa parte della sua famiglia, è ristretta e quindi ben lo conosce. Sa che è un uomo per male, che è altro che facile il compromesso, è sempre in cattiva fede, è anche stupido e quindi non ha nessuna intenzione di scendere in politica con lui. Lasciamo quindi l'infanzia di Platone così, sospesa, all'interno è passata soprattutto nel giardino di casa, in modo che la guerra stia fuori, in modo che la politica stia fuori e ci si possa concentrare su altro. Sicuramente su una certa bellezza che già da piccolo Platone sapeva osservare, senza però dimenticarsi di chiudere la bocca ogni volta che stava per scoppiare a ridere. Il secondo capitolo della nostra storia è l'adolescenza di Platone, un'adolescenza che facciamo iniziare un po' forzatamente molto tardi, a 22 anni, quando in teoria l'adolescenza è già conclusa proprio per definizione. La facciamo cominciare a 22 anni perché a 22 anni nella vita di Platone capita una cosa sconvolgente, non sappiamo esattamente il giorno, le condizioni meteorologiche, un sacco di altre cose che ci aiuterebbero a ricostruire più come una storia questa storia. Fatto sta che Platone incontra Socrate. Questa volta esce di casa non perché è convertito alla politica, non perché qualcuno l'ha convinto forzatamente a fare qualcosa che non vuole, Platone esce di casa perché ha trovato un maestro e questo maestro si chiama Socrate appunto. Socrate e Platone non potrebbero essere due uomini più diversi rispetto a quello che sono, Platone è introverso e Socrate è estroverso, Platone è ordinato e Socrate è disordinato e caotico, Platone è molto ricco e Socrate è povero e così via. E questo è bellissimo perché ci mostra qual è uno dei superpoteri della scuola. Allora ad Atene la scuola naturalmente non era stata in nessun modo canonizzata e Socrate non era un maestro tradizionale, non esisteva una struttura in cui gli alunni si recavano per fare scuola. La scuola era lasciata alla fantasia e al giudizio delle famiglie aristocratiche che spesso mandavano dei pedagoghi a insegnare i rudimenti di matematica, di musica e di poesia ai fanciulli e naturalmente le storie del mito. Platone quindi conosce Socrate come maestro non in un senso formale del termine, in un senso esistenziale. Socrate è il suo maestro perché Platone lo sceglie come maestro. La scuola molto spesso unisce persone diverse, stavo dicendo, per esempio a moltissime persone è capitato di diventare molto amiche di qualcuno che ci si è trovati come vicino di banco controvoglia perché un professore o una maestra l'ha imposto e che poi invece è diventata una persona fondamentale per la vita di un'altra, per la vita del suo vicino di banco. Questa volta la scuola a cielo aperto di Atene fa questo scherzo a Platone e a Socrate. Platone viene in qualche modo convertito da Socrate alla filosofia, magari prima l'ha già studiata, ma è la prima volta che vede un intelletto filosofico al lavoro. Platone stesso definirà poi Socrate torpedin di mare perché quello che Socrate fa con le persone che interroga per strada è incredibile, è una specie di artista contemporaneo della filosofia, il suo modo di mixare e remixare le domande e i temi della filosofia è fenomenale. La domanda che più di frequente Socrate fa ai cittadini atemiesi è perché stai facendo quello che stai facendo? Questa domanda è scomoda anche oggi, è scomoda per chiunque, perché molto spesso noi effettivamente facciamo magari bene qualcosa ma non sappiamo perché lo stiamo facendo e quindi questa domanda ci destabilizza, ci mina alle fondamenta, mina la nostra identità, il nostro spirito critico ci blocca completamente. Socrate la fa sistematicamente a tutti ignorando quale sia la loro collocazione sociale, la fa perché vede gli atemiesi infelici e la fa perché vuole ricordare agli atemiesi il senso della vita che è stare in un certo posto perché lì si vuole stare, non perché l'esistenza ti trascina e tu passivamente ne sei a suo effatto. Le domande di Socrate gli procurano moltissimi nemici, probabilmente per primi i genitori di Platone che non saranno stati molto contenti di vederlo così fuori rotta rispetto ai loro normali sogni aristocratici. Socrate in questo clima di di caccia alle streghe che anima Atene vinta da Sparta diventa il nemico pubblico, diventa il nemico in patria quello che corrompe i giovani come dice la prima accusa che grava su di lui e che propone nuove divinità alla polis divinità che non sono consentite quindi non solo corrompe i giovani ma è anche empio, azebeia si chiama questo suo reato, empietà. Le due accuse vengono avanzate da Anito e Omeleto e Licone, tre persone a caso non è molto importante chi siano. Quello che conta è che Socrate viene addirittura condannato a morte. La condanna di empietà gli tocca perché a volte, stando a Platone che ce lo racconta, cita questo daimon lo chiama, demone. Il demone sarebbe l'interiorità delle persone, il posto in cui le persone si rifugiano per rispondere a quelle domande che Platone gli fa. È l'invenzione della coscienza, un'idea che ci portiamo ovviamente dietro tuttora. Il daimon non è una divinità ma è un'anima o lo spirito, è quella cosa che ci consente di rispondere alle domande riflessive, cioè che ci consente di rispondere alla domanda come faccio quello che faccio, perché faccio quello che faccio, se sono o non sono qualcosa. Di rispondere e di fare le domande, di farci e di risponderci da soli alle domande. Gli atanesi però non capiscono e condannano Socrate come se il daimon fosse un altro Zeus. L'accusa di corruzione invece è più difficile da smentire nel senso che molti degli allievi di Socrate sono svitati, statisticamente ogni maestro ha degli allievi svitati che usano male i suoi insegnamenti e tanto più in quel momento della politica ateniese ci sono in effetti dei personaggi loschi che si aggirano attorno a Socrate. Per esempio per gli atenesi stessi molto losco è Alcibiade, un uomo che è passato due volte dalla parte degli spartani e che non è per niente affidabile agli occhi degli atenesi per bene. Il modo in cui lo Stato mette a morte Socrate non è la sedia elettrica che non esiste ancora ma è fargli bere un infuso a base di cicuta che pian piano immobilizzerà i muscoli del suo corpo fino a condurlo alla morte. Ovviamente Platone sarà stato fuori di sé anche perché questa è una morte pubblica. Non solo è terribile vedere ammazzata una persona che amiamo ma vederla ammazzata dallo Stato cioè da qualcosa che in qualche modo noi abbiamo scelto dove deve essere veramente terribile. È una morte che non si può piangere da soli e in questo momento è la seconda volta che vediamo l'incredibile genio del gesto che Raffaello fa fare a Platone. Questa volta Platone alza il dito ma non lo alza più per una velata obiezione per un però. Lo alza con un boato, con un rimprovero gigantesco. Platone si sente da solo contro il mondo che sta uccidendo il suo maestro. Quel giorno è il giorno della morte di Socrate e Platone non c'è. La tradizione dice che ha una febbre, una dura febbre che non lo fa alzare dal letto e infatti Socrate nel momento in cui muore si dice che chieda di sacrificare un gallo da Asclepio e questo perché dice Nice, questa è la sua interpretazione dei fatti, perché Asclepio che è il dio della medicina deve salvare Platone dalla morte o dalla sua febbre. Platone è l'erede di Socrate e quindi il maestro vuole che l'allievo si salvi e gli sopravviva. Comunque Platone quel giorno non c'è, forse anche perché i suoi genitori non avrebbero mai permesso a Platone di stare vicino a un condannato a morte, quindi appunto a un nemico pubblico in quel momento. Platone in realtà non ha moltissima scelta. La prima cosa che deve fare una volta che Socrate è morto è scappare il più velocemente possibile. Si tratta di un esilio in parte volontario e in parte imposto, perché non è sicura più la città per lui, non è sicuro trattenersi se il suo maestro è stato ucciso così. Probabilmente i rapporti con la sua famiglia sono guastati e c'è moltissimo lavoro da fare, ma la cosa più interessante è che Platone, dopo essere partito durante le sue peregrinazioni che dureranno 11 anni perché non torna ad Atene prima di 11 anni, inizia a scrivere, a scrivere come un pazzo, a scrivere tutto quello che ha da dire, a riversare sulla carta come una sbobinatura che dura veramente anni tutto quello che ha sentito dire da Socrate. È commovente perché per farlo deve inventarsi un genere letterario che non esiste, cioè appunto quello dei dialoghi. Tutti i primi dialoghi di Platone sono la voce di Socrate messa sulle pelli di vue, che per fortuna Platone ha i soldi per comprare in virtù del fatto che è un aristocratico. Il suo gesto di scrivere è commovente, probabilmente è in questo momento che Platone davvero diventa Platone, cioè diventa largo non soltanto di spalle ma anche di pensieri, di parole. Platone diventa uno scrittore in questo momento. Il rapporto tra la filosofia e la scrittura non era un rapporto per niente pacifico, non lo era mai stato. Gli scrittori erano i poeti, erano gli interpreti del mito, mentre invece i filosofi si trasmettevano il sapere segretamente, a parole. Nel mondo antico le scuole di filosofia, certamente fino all'accademia di Platone, erano delle scuole di vita e quindi sembrava di affidare qualcosa in maniera sbadata alla carta, alla pelle di bue, al papiro. A un certo punto Platone proprio scrive, sempre in quella lettera settima, che è l'unico suo testo, altra della Repubblica che oggi citeremo, scrive proprio che la scrittura toglie qualcosa alla memoria, toglie qualcosa alla verità e adduce una spiegazione molto semplice, elementare ma forte. La scrittura è una pratica a posticcia, falsa, noi scriviamo quello che non ci ricordiamo, non scriveremo mai il nome di nostra madre o la nostra data di nascita, a meno che non siamo molto malati e che purtroppo la memoria inizi a non funzionare. In caso contrario noi scriviamo cose che ci sono meno care rispetto a quelle che ricordiamo a memoria e questa per Platone è una grande ragione per non scrivere. Eppure la voce è un modo caldissimo di ricordare e anche per Platone è un modo caldissimo di ricordare, per cui Platone sceglie di immergersi, come se davvero indossasse le cuffie e mettesse la musica a tutto volume, nella voce di Socrate. Socrate diventa il personaggio dei suoi dialoghi, dialoghi che appunto esistevano, erano stati utilizzati dal teatro ma mai prima di allora, se non veramente in maniera molto saltuaria, dalla filosofia. Si trova un po' nella condizione di una donna che perda la sua collana di perle in mezzo a una strada trafficata e che per prima cosa debba cercare di inseguire tutte queste perle prima che erano disperse, rubate o finiscano in un tombino. E' quella la foga con cui Platone si dedica a questa missione, che è quella appunto di scrivere Socrate. Questo produce in lui un effetto strano, c'è una caratteristica importante dei maestri. I maestri sono quelle persone che a differenza di tutti gli altri rapporti che costruiamo nella nostra vita, basano il nostro rapporto con loro sulla possibilità di essere superati da noi. Se ci pensate è un grandissimo lusso e i maestri memorabili fanno esattamente questa operazione, vogliono essere superati da noi, lo desiderano veramente, in maniera sana, non in maniera morbosa o malata. I nostri fidanzati o i nostri amici non desiderano questo per noi e noi non desideriamo questo nei loro confronti. Non desideriamo mai di essere superati o di superare. Sono altre le gambe di sentimento. Vogliamo per esempio fare un pezzo della vita con loro, percorrere un pezzo della vita con loro. Non desideriamo venire superati. Invece un buon maestro, molto più che un padre, desidera proprio esattamente questo, che l'allievo lo superi e non lo superi in felicità o in ricchezza, ma nella cosa che lui sa fare meglio. Purtroppo la vita spezza questa ambizione che sicuramente Platone avrebbe avuto nei confronti di Socrate. Più che spezzarla, la congela in una specie di limbo, per cui è molto difficile per Platone uscire. Per undici anni scrive e in qualche modo trascura il suo pensiero. I dialoghi socratici sono pieni di straordinarie invenzioni filosofiche, ma per quello che ne sappiamo potrebbero essere tutte da attribuire a Socrate. L'umiltà di Platone è straordinaria e secondo me è un buon punto insieme alla sua propensione ad essere muto, a non mostrare i denti. È straordinaria la sua umiltà perché non si mette mai nei dialoghi. Lui non esiste, il personaggio e il protagonista è Socrate. Però Platone appunto rimane impigliato in questo ruolo di allievo. Non ha il tempo di uccidere lui, di superare il maestro, perché la storia glielo sottrae prima, perché Socrate viene barbaramente ucciso. E la conseguenza è che in qualche modo nella vita e nella produzione di Platone, anche se poi tutti i critici parlano anche di dialoghi dell'età adulta, però secondo me è per questo che la morte di Socrate fa sì che Platone passi dall'adolescenza, a quel periodo in cui sei continuamente arrabbiato, accecato dall'odio, punti il dito contro il cielo o contro gli uomini perché le cose non vanno, alla vecchiaia, il momento dell'estrema saggezza. È come se per moltissimo tempo Platone rimanesse impigliato in questo dolore e in questa nostalgia, anche se un uomo fatto continua a rimpiangere il maestro. E questo è importante nella seconda grande parte della vita di Platone nella sua adolescenza. Non è per niente Platone il pensatore del futuro, dell'utopia. Per lui il posto migliore in cui ci si può trovare è il mondo, Atene, prima del 399. Il posto migliore è indietro, alle spalle, ed è il mondo in cui Socrate non è ancora stato ucciso. Di qui in avanti Platone avrà un unico grande desiderio, cambiare il mondo, cioè fare in modo che mai un'altra volta un cittadino onesto venga barbaramente ucciso dallo stato in cui ha avuto la vita. E questo quindi il Platone dell'adolescenza. Un Platone infuocato, i cui pensieri vanno avanti ma le cui parole stanno indietro nel mondo prima del 399 e prima della morte di Socrate. Ed eccoci alla saggezza di Platone. Nel momento della vecchiaia di Platone, quando finalmente diventa un maestro e scrive il suo più grande dialogo repubblica. Questa volta la storia, la terza stagione della vita di Platone, comincia probabilmente con un processo interiore, con la maturazione di un sogno, di tante cose che prima aveva capito. Che aveva capito proprio mettendosi a scrivere della vita di Socrate. Forse è necessario prima di andare avanti precisare che quello che stiamo facendo qui è un po' diverso da quello che di solito fanno i libri di scuola. Forse non è neanche il posto giusto per raccontare le cose in questo modo, un libro di scuola. I libri di scuola prendono i pensatori uno alla volta e li trattano in un modo molto simile tra loro. Per esempio raccontano prima la biografia, poi l'etica, poi la nosologia, poi l'ontologia, eccetera. Quello che stiamo cercando di fare è un gesto di coraggio un po' più simile o almeno ispirato a quello di Raffaello. Cioè individuare nella vita e nel pensiero di Platone, uomo, un filo rosso. Qualcosa di così forte quanto quel dito puntato verso l'alto. Adesso sappiamo già che il mondo che Platone vuole cambiare è questo perché in questo mondo, nel suo mondo, nell'Atene del V secolo, è ancora possibile mettere a morte un uomo onesto. E quest'uomo è tragicamente stato proprio Socrate. A un certo punto della vita di Platone, man mano che lui va avanti a scrivere i dialoghi socratici, sempre più forte, si impone ed emerge una voce. Platone è naturalmente anche un grandissimo scrittore, l'abbiamo accennato, perché, come tutti i grandi narratori, ha un'urgenza che lo muove, che lo divora, che lo costringe a scrivere. E quest'urgenza è da una parte cambiare il mondo, cioè salvarlo dai politici corrotti, e dall'altra parte tenere in vita il maestro, tenere in vita Socrate. A un certo punto, dentro questo flusso ininterrotto di pensieri e di sintonia con il maestro morto, Platone trova la sua voce. E' il momento in cui scrive un dialogo che farà la differenza rispetto a tutti gli altri, cioè Repubblica. In questo momento quello che capita è una stranissima e insolita metamorfosi al contrario, per cui non è il figlio che prende i tratti, la voce, i pensieri del padre, crescendo e diventando un uomo adulto, maturo, vecchio, ma è il padre, cioè Socrate, personaggio dei dialoghi, che inizia a parlare come il figlio, cioè Platone per la prima volta usa Socrate come una marionetta, gli fa dire i suoi discorsi, e uno se ne rende conto subito leggendo Repubblica, perché la filigrana dei pensieri è diversa, ma soprattutto il tema è diverso. Repubblica è l'unico dialogo apertamente politico. Questa volta Socrate è il personaggio, e Platone, là fuori, ha un problema fortissimo e stringente, cioè domandarsi che cos'è la giustizia, stabilire qual è lo stato ideale. Questa volta la forma politica è esplicita, questa volta il dito di Platone si leva non più solo per alzare, muovere una timida obiezione, non solo più per urlare contro il cielo, contro gli uomini, per aver distratto Socrate, ma per indicare una via. Ed è questo il segreto del genio di Raffaello. Il dito di Platone sta indicando una via, che in parte è ancora valida per noi. Per capire qual è la via in questione, bisogna prendere in mano Repubblica. Repubblica è un dialogo che è stato scritto con questo problema, devo cambiare il mondo, ma senza scendere in politica, sono in esilio e sono un intellettuale. Come faccio a cambiare il mondo? Non è un problema piccolo, soprattutto perché il mondo di Platone è molto diverso dal nostro. Non si può fare un comunicato stampa in 17 lingue, in 24 ore, che arrivi da una parte all'altra del globo terraqueo. Bisogna usare delle altre strategie. Per esempio, una Platonella già usata è quella di scrivere, anziché parlare, ad un uomo alla volta. Comunque, per capire qual è la strategia che Platone mette in campo per cambiare il mondo, bisogna partire proprio da Repubblica. Questa è una cosa che ancora Repubblica non dice, provo a spiegarvela io così. Tradizionalmente ci sono due strade per cambiare il mondo. La prima è la strada dei Santi, cioè cambiare il mondo un pezzo alla volta, con grandissima dedizione e pazienza. E per i Santi, perché non tutti riescono a farlo, è molto doloroso. Il principale inconveniente di questo modo di cambiare il mondo è che non ne vedi la fine. E non ne vedi la fine perché se devi andare da una persona alla volta, prima o poi morirai, non riuscirai a cambiarle tutte insieme. E questa è la goccia che scava la roccia. È un compito infinito. La seconda strada per cambiare il mondo invece è molto violenta e questa è la sua stessa controindicazione, cioè distruggere per ricominciare. Entrambe queste strade, per fortuna, non convincono Platone e quindi se ne deve inventare una terza. E questa terza strada è un mix tra le due. L'unico modo per iniziare ad abitare adesso il mondo, il mondo migliore, quell'altro mondo, è cambiare la propria vita. E perché, come cambiare la propria vita? Cambiare la propria vita credendo a una storia migliore. L'idea di Platone è risolvere questa impossibilità di cambiare il mondo, questa difficoltà di scegliere tra le due strade maestre per cambiare il mondo, con una terza strada che è quella dell'educazione. Per cambiare il mondo io devo abitare il mondo migliore fin da adesso. C'è un filosofo del Novecento che si chiama Ernest Bloch che ha spiegato questa cosa con un'espressione poetica, ma in realtà molto tecnica, che secondo me è molto importante, che è sogni ad occhi aperti. I sogni ad occhi aperti sono dei sogni su cui noi abbiamo un dominio, a differenza dei sogni ad occhi chiusi che ci capitano durante la notte, che sono guidati dal nostro inconscio. I sogni ad occhi aperti noi li dirigiamo dove vogliamo e li possiamo usare a nostro vantaggio, per anticipare il futuro. Faccio un esempio. Domani ho un esame, domani finalmente posso uscire di casa, domani ho un incontro importante, domani ho un appuntamento con qualcuno che amo. Tutte queste cose mi possono fare paura oppure mi possono dare speranza, ma sicuramente io posso in qualche modo anticiparle iniziando a pensare a come sarà, credendo che sarà in un certo modo piuttosto che in un certo altro. Quello che si stabilisce così, dice Bloch, tra presente e passato, è una specie di circolo, un circolo virtuoso, per cui io posso immaginarmi e quindi cambiarmi. Per esempio potrò pensare che è il caso che io vado in pullman in modo da metterci meno e quindi domani, questa è una semplice regola di previdenza, arriverò in pullman e più velocemente. Sono tutta una serie di cose che noi possiamo fare con i sogni ad occhi aperti. e Platone ha avuto il grandissimo merito di accorgersene. Come si fa però a fondare lo stato ideale? Questi sogni ad occhi aperti in Platone prendono la forma di due grandi storie, dal mito, dalla poesia. Platone ruba questa forma bellissima, la forma del mito e la forma della storia. Le due grandi storie su cui Platone immagina di fondare la sua repubblica, il suo stato ideale, Politeia in greco, sono la prima quella del mito dei metalli e la seconda il mito della caverna, che è famosissimo. Il mito dei metalli a cosa serve? Tutti i bambini dello stato ideale devono essere convinti del fatto che sono fratelli di ogni altro, hanno in comune una madre terra che ha impastato le loro anime con quelle di diversi metalli e perciò ciascuno, senza bisogno di conflitti e lotte fratricide, vuole occupare un certo posto nella società, insostituibile. Questo mito, questa storia è importantissima perché intanto crea dei fratelli e non dei nemici tra i membri della società, ma poi è importantissima perché fonda una cosa che assomiglia molto al sogno ad occhi aperti e che Platone chiama nobile menzogna. Questa menzogna è nobile perché è evidente che non tutti sono figli della stessa madre, è evidente che le anime non sono impastate con i metalli, però questa storia, come tutte le parabole, come tutti i miti, dice una cosa buona e se ne può fare un utilizzo razionale, per questo ha senso usarla e metterla a fondamento dello stato ideale. Questa storia poi fonda la giustizia, cioè dice che la giustizia è la compresenza di diversi ruoli all'interno dello stato, a ciascuno il suo appunto. La seconda grande storia che Platone racconta per tenere in piedi lo stato ideale riguarda invece l'importanza della verità. La seconda grande storia dice ai bambini della Repubblica che si illudono di conoscere il vero. In realtà la loro condizione, una condizione che possiamo capire bene in questi giorni, è quella di vedere il mondo solo attraverso una finestra, solo chiusi in una caverna, di vedere il mondo attraverso delle ombre, degli oggetti che vengono proiettate da un fuoco che qualcuno ha acceso alle nostre spalle e sulla parete di fronte a noi. L'immagine è contorta, però è una geografia dell'essere umano, della nostra capacità di conoscere molto chiara. C'è qualcuno, tutti noi, che tende a vedere solo le apparenze e ha bisogno dell'educazione, ha bisogno dei filosofi, dice Platone, che pian piano concura, lo sleghino e lo introducono al mondo di sopra. Questo mondo di sopra è il mondo delle idee, Platone come sapete lo chiama iperuraneo, ma la cosa importante è che in questo mondo ci sono le idee, i ragionamenti corretti. A questo mondo hanno accesso i filosofi semplicemente perché sono, in parte perché è una loro inclinazione naturale, e poi perché hanno studiato. E dato che hanno studiato, e hanno studiato grazie allo Stato, ora devono restituire quello che hanno imparato, di scendere nella caverna e liberare gli altri. Una delle convinzioni su cui si basa la politica di Platone, una delle convinzioni su cui si basa la Repubblica, è una convinzione che a prima vista può farci sorridere, o che può sembrarci molto distante da noi, cioè che i filosofi debbano stare al governo. Nelle nostre società, questo purtroppo, per fortuna, è molto raro. Al governo ci sono dei professionisti della politica, oppure dei tecnici, ma non ci sono, o raramente ci sono, dei filosofi. I filosofi scrivono sui giornali, oppure parlano nei talk show, ma raramente scendono in politica. In parte perché Platone ha dettato scuola, con l'idea che per i filosofi la politica fosse un posto di corruzione, ma in buona parte per un'altra ragione, che è psicologica, cioè le persone che sono interessate al sapere fanno fatica a dedicare il loro tempo al compromesso, all'arena politica, non sono portate. L'intuizione di Platone è una intuizione psicologica, esistenziale, quasi letteraria. Il personaggio filosofo è buono, è un buon governante, perché non desidera esserlo. In effetti, un po' per delle ragioni anche molto superficiali, legate all'ansia da prestazione, noi sappiamo fare qualcosa meglio quando non è importantissimo che lo facciamo, quando non è la cosa a cui teniamo di più al mondo. E per i filosofi è così. I filosofi, secondo Platone, possono esercitare bene il governo perché non ci tengono morbosamente, perché non si attaccheranno morbosamente al governo della città. Sono altre le cose che a loro interessano veramente. Dunque, il mito dei metalli è il mito della caverna. Se li leghi insieme, se racconti queste due storie a un bambino quando è ancora piccolo, forse puoi produrre qualcosa di grande. Se racconti questa storia a tutte le persone contemporaneamente, se la racconti a tutta la città, cresceranno uomini che credono di essere fratelli, che credono nella giustizia e che credono nel bisogno di affidarsi a qualcuno che ha il culto della verità, che crede nella verità, che passi tutto il tempo a fare quello che Socrate aveva fatto per Platone, cioè a mostrare dove si potrebbe andare, quale sarebbe la direzione migliore da compiere, quella che va contro l'indifferenza, o la pigrizia, o la quotidianità e l'abitudine. A questo punto Platone deve però dare una forma concreta al suo progetto, perché a differenza di quello che si pensa, Platone non è solamente un grande teorico, è anche un grandissimo pratico e pragmatico uomo. E il modo in cui mette nella sua vita la missione di fondare la Repubblica non è solo scrivere un libro, ma è anche prendere, partire, e andare a fare il casting del bambino perfetto. Perché un bambino perfetto? Che cosa c'entra? Perché il modo più concreto che Platone trova di inverare questo piano è cercare qualcuno che possa un giorno realizzare veramente la Repubblica. Forse per lui l'ideale sarebbe stato trovare un filosofo destinato ad essere governante, invece trova un governante che dovrebbe essere destinato a diventare filosofo. Il bambino in questione è Dionisio, il figlio del tiranno di Siracusa, Dionigi. Nella sua lettera settima, Platone dice che va a Siracusa per vedere i crateri dell'Etna ancora fumanti dell'ultima eruzione, ma è evidente che non è così. Platone va a Siracusa perché vuole convertire il tiranno, vuole prendere questo bambino, vuole la sua cavia di laboratorio. E non ci va una volta. Quando le cose vanno male, quando il bambino mostra di essere un disastro, di non avere nessun interesse per la filosofia, quando Dionigi, il padre, inizia a odiare Platone, a pensare che stia convertendo in maniera insana e improduttiva Dionisio, Platone non demorde e torna, l'ultima volta torna a Siracusa che ha 80 anni. Questa è una cosa bellissima, straordinaria se ci pensate. Tutto il contrario che è una teoria. Eppure la forza con cui Platone viene respinto da quella piccola polis che è Siracusa mostra quanto grande sia la sua idea. Convertire un intero popolo, mettere all'interno di questo popolo una forma di governo migliore, in un modo dolce, attraverso l'educazione. Naturalmente tutto questo può anche essere utilizzato molto male, basti pensare ai motivi per cui Platone è stato poi criticato nel Novecento, da Popper per esempio, cioè ideologia, forzatura, propaganda. Questo modo però a me sembra una soluzione dolce. Platone ha un problema concreto, biografico, vitale, esistenziale, che è migliorare il mondo e fare in modo che la morte di Socrate, è un cittadino omnesso, non si ripeta mai più. E il modo in cui lo fa è raccontare una storia grande che possa valere per il maggior numero di persone possibili. Andare dal tiranno è la soluzione più svelta che gli viene in mente, oltre a scrivere, perché in quel momento un tiranno è una persona che ha la possibilità di parlare con molte, moltissime altre persone, ma non esistono i social network che la possa prioritaria e quindi per Platone è l'unico modo, l'ultima spiaggia. Poi, siccome l'esperimento sarà fallimentare, si troverà a fondare l'Accademia, che però è una soluzione di ripiego rispetto alla conversione immediata e netta del politico. Finalmente Platone è lui il maestro, anche se questa sua missione fallisce. Però non fallisce una missione più grande che quella invece di portare in salvo, forse, chissà, il genere umano, indicandogli la via. Siamo quindi all'atto finale di questa storia. Platone è oramai un vecchio che ha fatto di tutto, ha fatto tutto quello che ha potuto per migliorare il mondo, per cambiare il mondo. Ha alzato il dito almeno tre volte, una per dire però, una per dire non ce la faccio, e la terza per dire vorrei andare proprio esattamente là. Questo là è una forma di stato possibile, utopica, è una forma di stato che sta nel futuro, non sta più nel passato. Questa volta Platone non vuole più, non pensa più che il mondo migliore possibile sia nel passato, pensa che sia nel futuro, che sia un passo più avanti. In questo consiste il più grande superamento di Socrate. Se pensate alla questione ecologica, ad esempio, capirete meglio perché l'intuizione di Platone è grandiosa. Per cambiare il mondo bisogna credere tutti e contemporaneamente in una storia, raccontarsi la stessa versione delle cose, possibilmente positiva, se no si incappa nella dittatura o in altri terribili abomini. Qual è la versione della stessa storia? Qual è la storia in questione? Per esempio, pensare che il mondo possa diventare più pulito. Credere che il mondo diventerà più pulito fa sì che noi ci impegniamo con costanza a dividere la plastica, dello yogurt, dell'alluminio. Questa cosa non sarebbe altrettanto praticabile se noi non pensassimo che questo mondo più pulito e migliore è possibile. Ci stuferemo molto più rapidamente di fare questa operazione tutti i giorni. È solo un esempio, ma rende l'idea. Socrate è stato grandissimo, ma ha voluto convertire una persona alla volta. e per questo nella scuola di Atene di Raffaello occupa un posto importante, ma marginale, non sta al centro, in vetta, in cima, sulla sommità della piramide, con Platone e con Aristotele. D'altra parte, Socrate è stato il padre che ha messo il germe di questo pensiero in Platone e la sua morte gli ha dato forse il colpo di grazia per diventare un uomo che altrimenti il piccolo Aristocle non sarebbe mai diventato. Platone fa un passo in più, capisce che per cambiare il mondo non basta convertire un uomo alla volta, bisogna trovare un contenitore abbastanza grande, possibilmente una storia e dunque un libro. Bisogna trovare il coraggio di scrivere, bisogna trovare il coraggio di urlare ai quattroventi che una direzione c'è e non è più nel passato, ma è nel futuro. Dunque possiamo immaginare che il genio di Raffaello sia stato veramente molto preciso e che l'unica operazione possibile, l'unica operazione veramente vincente che lui poteva fare era come un marionettista alzare esattamente quel dito per indicare appunto il futuro. Questo del futuro è un po' il filo rosso della filosofia di Platone e tutta la sua vita, le sue opere Repubblica si possono leggere in questa luce. Certo c'è anche un Platone cattivo, scuro, che usa tutto questo per indottrinare le persone, per portarle da un'altra parte. Platone e la Repubblica è uno dei libri che venivano più letti dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale, perché è un libro forte che ricorda agli uomini che cosa possono fare nei confronti degli altri uomini. Però io penso che la ragione per cui Platone ha alzato quel dito sia molto positiva e nasca fondamentalmente da un grande amore e da una grande stima, quella che Platone appunto nutriva per Socrate, il suo maestro. Grazie a tutti.